Signora, non posso più permettermi di fare l'iteratore. E la colpa è tua, non negarlo. Se quella volta non avete consentito a trasmetterti il monopolio. Vostra maestà è rinunciato il monopolio perché nessuno potesse affermare. Che vostra maestà è in qualche modo riuscire a fare con il commesso. Proprio così, per poter fare un po' di soldi. Ma ne facciamo poi. Prima di tutto voglio un reso conto. Basta! Quanto avete pagato il pastoletto che avete in testa?